Salve, salve una mano. Che ci fai qui? Ti ho visto entrare mentre passavo e ne ho approfittato per salutare la mia nuova amica Betty. Bene. Capiamoci professor Fioravanti, io e lei non siamo amici e non lo saremmo mai, lo sa perché? Perché voglia di fare l'amore con me come io voglia di fare l'amore con te. Sbagliato. Lei è un uomo inopportuno, arrogante e narciso che oggi ha voglia di scopare. E io capisco che sia eccitante scoparsi l'insegnante del proprio figlio, sono d'accordo, sa? Ma non accadrà mai. Ho capito. Posso prenderti stasera, alle otto. Sono puntuale. Grazie. 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 Grazie a tutti